Con la bella stagione il bel canto si trasferisce all'aperto. Sì, un viaggio desiderato in una città importante, in un teatro importante che è Carlo Felice di Genova, che mi ha ospitato già due mesi fa per la Traviata. E' arrivata questa nuova richiesta per quanto riguarda il ruolo dello zio Bonzo nella Madame Abate, fra e quindi sogniamo con Puccini. E quindi sì, parto il 4 di luglio, le rappresentazioni sono il 26 e il 28 all'Arena del Mare a Genova. E' un progetto, è una prima volta che tutto il teatro si sposta in questa bellissima arena e speriamo che possa avere impatto sul pubblico. Un po' alla stregua di quello che è Torre del Lago a Via Reggio, dove è nato il nostro grande compositore. Ma prima di partire per Genova c'è un importante impegno qui a Palermo con il Coro Internazionale della Pace. Sì, chiudiamo l'annata estiva praticamente con questo ultimo concerto alla Chiesa Evangelica dei Valdesi qui a Palermo, che sarà appunto il 20 giugno alle ore 21. Ci sarà il Coro Internazionale della Pace, che è il mio coro, e la String Orchestra Ensemble. C'è questa fusione di queste due entità che è nata per caso ed è molto accattivante quest'idea. Sono molto felice, ieri abbiamo fatto una bellissima prova in Chiesa e credo che il pubblico si divertirà. Si tratta di brani che vengono ricavati da temi da film, sono i miei arrangiamenti insieme a quelli dell'orchestra. Io dirigo praticamente, poi ci sarà la partecipazione straordinaria di mia moglie, che è professoressa di violino del Teatro Massimo, Deborah Boga. L'orchestra, single ensemble, è del professor Petrotto. Ci sarà anche un bravissimo pianista jazz, che è Roberto Mezzatesta. La maggior parte dei brani sono diretti da me. Quando io poi avrò anche la possibilità di cantare, ci sarà la mia assistente, Alessandra Laspina, che dirige. E i miei solisti del coro, che faranno tutto il resto.